Salve e benvenuti a Padre Gruner risponde, la trasmissione di Fatima TV dove rispondiamo alle domande di voi telespettatori. Sono John Vernari e come di consueto vi ricordo che potete inviare le vostre domande alla casella domande-fatima.it. La domanda di oggi è la seguente, come posso fare per diffondere la devozione a Maria Santissima anche a chi non sembra esserne interessato? Domanda interessante, bisogna vedere perché queste persone non sembrano essere interessate a Maria. Forse ciò denota una grave mancanza di conoscenza della propria fede, se hai a cuore la tua salvezza e vuoi andare in paradiso. Penso che tutti lo desiderino, ebbene non puoi riuscirci senza essere devoto alla Madonna. Può sembrare un estremismo, ma Sant'Alfonso ne ha parlato a fondo in un suo libro basato sulle sacre scritture e la tradizione sacra. Le glorie di Maria. Le glorie di Maria, esatto. Ecco, secondo Sant'Alfonso la devozione a Maria è necessaria per la salvezza e le sue conclusioni vengono accettate dalla teologia cattolica. Non che Sant'Alfonso non sia stato un grande teologo morale e spirituale, anzi, ma anche la teologia dogmatica concorda sul fatto che la devozione alla Madonna sia necessaria. Non è mai stato definito dogmaticamente, certo, ma è sicuramente un insegnamento del Magistero Ordinario Universale, ergo infallibile. Questo concetto può essere un po' difficile per chi non conosce bene la teologia cattolica, ma il fatto è che la Beata Vergine Maria è la mediatrice di tutte le grazie. Mi è sempre piaciuta la definizione di tale ruolo data da Leone XIII, non che altri papi non l'abbiano data, ma quella di Leone XIII coglie dritta nel segno, quando afferma che tutte le grazie e nessuna esclusa ci provengono da Dio Padre per mezzo della sacra umanità di Gesù Cristo attraverso le mani della Beata Vergine Maria. Non v'è quindi grazia che non ci provenga dalla Beata Vergine? Non è lei l'origine di tale grazia, ovviamente, ma se non è lei a trasmettercela, allora non la otterremo. Le grazie ci provengono da Dio Padre per mezzo di Dio Figlio attraverso le mani della Beata Vergine. Sì, infatti il suo titolo è Mediatrice di tutte le grazie, non della maggior parte delle grazie o di qualche grazia. Esatto. Prendiamo ad esempio la grazia del battesimo. Anche quest'ultima, come tutte le grazie sacramentali, ci giungono per mezzo delle mani di Maria Immacolata. Molti non capiscono questo concetto, ma sull'argomento ho scritto una tesi ai tempi dei miei studi all'Angelicum e probabilmente ne so più di molti altri sacerdoti e forse di qualche mariologo. Non che io pretenda di essere superiore a loro, ma è un argomento che ho studiato a fondo. Alcuni, come ho detto, non sono convinti, ma anche se non fosse necessaria, e lo è, la devozione a Maria rende comunque la salvezza di un individuo un compito molto più facile. Nel suo libro, Sant'Alfonso afferma che è già un grande risultato per un qualsiasi essere umano, riuscire a condurre una vita retta e santa al punto da salvare la propria anima. Lo stesso santo riconosce che sono davvero poche le persone che ci riescono purtroppo. E ancora più grande è il risultato di coloro che per mezzo di una vita davvero santa riescono a salvare non solo la propria anima, ma anche quella di altre persone. Questo, secondo Sant'Alfonso, è ciò che sono riusciti a fare i santi della Chiesa. Tuttavia, il risultato più grande di tutti è quello di ottenere meriti sufficienti per salvare tutte le anime del mondo. E questo, secondo Sant'Alfonso, è riuscito solo alla Beata Vergine Maria. Affidiamoci, quindi, ai suoi meriti e otterremo molto più facilmente la nostra salvezza. Se viviamo nel miglior modo possibile e ci atteniamo ai dieci comandamenti, chiedendo al contempo l'ausilio della Beata Vergine, allora tutto sarà più facile. Però, che fare a chi davvero non nutre alcun interesse per Maria? Mia sorella, ad esempio, insegna catechismo ai ragazzi in età adolescenziale e con sé porta sempre un rosario benedetto, oltre a un opuscolo su come recitarlo a dovere. Prova sempre ad invogliare quei ragazzi a recitarlo il più possibile. Ecco, noi dovremmo avere sempre un simile arsenale con noi, quando cerchiamo di parlare della Beata Vergine. Spesso ci risponderanno di non volerlo, ma voi dateglielo lo stesso e dite loro tienilo per quando avrai un problema. Forse in futuro arriverà un momento in cui avrai bisogno di un aiuto celeste e il rosario sarà lì per aiutarti. Anche portare del materiale su Fatima aiuta moltissimo in questi casi e, lo sapete, potete ottenerlo gratuitamente chiamando il nostro numero verde 898 46 46 oppure inviando una mail a info-fatima.it. La storia di Fatima, le apparizioni, il messaggio della Madonna, il racconto del miracolo del sole al quale testimoniarono ben 70.000 persone e che venne riportato dalla stampa. Tutte queste cose, tutti questi fatti aiutano la gente ad interessarsi di più alla devozione della Madonna proprio per mezzo della storia di Fatima. Sì, e possiamo citar loro le parole di San Buonaventura, il quale disse che ogni pagina dell'Antico Testamento parla della Madonna. Ovvio, devi sapere dove cercare, ma è lì. Sant'Alfonso ad esempio cita Oloferne che distrugge gli acquedotti che portarono acqua a Gerusalemme, una figura che simboleggia il diavolo, il quale sa che per impedire ad un'anima di arrivare in paradiso deve tagliare gli acquedotti che portano l'acqua spirituale, intesa come simbolo di grazia in quell'episodio. Tagliare gli acquedotti equivale a rimuovere nei fedeli la devozione per la Beata Vergine. Sarà allora che il diavolo li avrà in suo potere. Così Sant'Alfonso spiega a quel passo biblico riferito ad Oloferne. Se una persona si rifiuta di prendere in considerazione la devozione a Maria Immacolata, può anche essere che sia predestinata a tutto ciò, magari perché ha compiuto qualcosa di sbagliato. Nel quarto mistero gaudioso, la presentazione al Tempio, San Simeone dice alla Madonna, anche a te una spada trafiggerà l'anima perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Vedi John, il modo in cui si relaziona un individuo nei confronti della Madonna è alquanto rivelante, anche se dimostri a parole di amare Nostro Signore. Se non ami Sua Madre Maria, se addirittura la odi, e non sono pochi coloro che lo fanno, ciò può rivelare il fatto che non sei affatto vicino a Dio, perché se ami davvero Nostro Signore non puoi non amare Sua Madre. Certo. Gesù ha amato e continua ad amare Sua Madre, quindi come pensi di poter amare Gesù senza amare la persona più importante per Lui e cioè Sua Madre? Anche umanamente parlando, come puoi affermare d'amare Gesù mentre ti ostini a rifiutare Sua Madre Maria? Beh, la cosa che mi sento di consigliare alla persona che ci ha scritto è di verificare se nel cuore di chi sta cercando di convertire vi sia indifferenza verso Maria. Sì, di capire se si tratta solo di ignoranza o magari se quella persona è stata influenzata da un atteggiamento di tipo protestante o magari è affetta da pregiudizi. Esatto, è un problema intellettuale o di volontà? Nel primo caso, se sono ignoranti o si sbagliano, se dimostrate il loro errore o la loro ignoranza, potreste essere in grado di fargli capire la bontà ed il potere della Beata Vergine. Della Madonna, certo. Ma se è la volontà a far loro difetto, potete provare quanto volete, ma... Sì, c'è poco da fare. Nel caso di questo rifiuto sia una questione di volontà e ostinazione, probabilmente è un segno di predestinazione. Sì, anche se non nel senso calvinista del termine, ovviamente. No, no, certo che no. So che a molti può sembrare un insegnamento strano, tra virgolette, ma sempre per citare lo stesso Sant'Alfonso, Dio concede a ciascun'anima un numero ben preciso di peccati che può commettere, dopo i quali non v'è più perdono. Se avete pensato di poter continuare a peccare, tanto c'è la soluzione, ebbene, sappiate che c'è un limite a tutto. Con Dio tutto è soppesato e misurato, lo possiamo leggere nel Libro della Sapienza, se non ricordo male. Ora, se una persona ha indurito il proprio cuore al punto tale da non voler più sentire nulla in merito al nostro Signore la Madonna, può sempre pentirsi prima di morire, come insegna il Concilio di Trento, e può ancora convertirsi grazie alle proprie preghiere o a quelle che altri reciteranno per lui, ma sarà sempre più difficile riuscirci. Più si allontanerà dalla retta via, più sarà difficile per lui pentirsi. Questo non significa che Dio non possa convertire chi voglia, perché anche il peggiore dei peccatori può essere convertito se si pente, si sacrifica e prega a sufficienza. Quindi forse la cosa migliore nel caso di costoro che si rifiutano di ascoltare le meraviglie della devozione a Maria è quella di pregare e sacrificarsi per loro, perché hanno lasciato la retta via e sono a rischio di perdizione eterna. Sia che si tratti di un problema di intelletto, cioè di ignoranza, sia che si tratti di un problema di volontà, sono avviati comunque lungo una cattiva strada. Certo, se il problema è meramente quello di non conoscere Maria, di ignorare la necessità della sua devozione per ottenere la salvezza, sarà sicuramente più facile convincerli e far prestare loro maggiore attenzione a tutte le promesse meravigliose che la Madonna riserva ai Suoi devoti. È più facile convertire una mente ignorante che un cuore indurito, questo è poco ma sicuro, ma spesso il loro cuore lo è a tal punto che l'unico modo per salvare queste persone è per mezzo della preghiera e dei sacrifici. È famoso l'episodio di San Giovanni Vienne, il grande curato d'Ars, al quale un suo collega sacerdote si rivolse per avere un consiglio, perché Dio non ascolta le mie preghiere e non converte i miei parrocchiani, chiese a San Giovanni quel sacerdote e il santo rispose, è provato oltre a pregare anche a digiunare e a fare sacrifici per loro? No, disse quel sacerdote, ebbene fallo e vedrai cosa accade. Credo che San Giovanni aggiunse anche i suoi sacrifici a quelli del collega e in poche settimane quel sacerdote tornò dal curato di Ars e gli disse che i suoi parrocchiani si erano convertiti. Quindi ciò che serve sono preghiera e sacrificio, specialmente per chi disprezza il ruolo di Maria Immacolata. Costoro corrono maggiormente il rischio di perdere la propria anima. Bene, per concludere vorrei ricordare che il libro di cui ha parlato lei, Le glorie di Maria, di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, è davvero una lettura spirituale formativa e interessante e lo consiglio a tutti i nostri telespettatori. Sì, assolutamente è un libro da leggere e da far leggere ad altri, certo. Proprio così. Non so se sia disponibile in italiano, ma potete trovarlo facilmente su internet, cercando sui motori di ricerca. È un libro profondo e ricco di contenuti. È un libro fondamentale. Per conoscere la Madonna e tutti gli aspetti legati alla sua devozione. In esso si esaminano il Salve Regina, i Sette Dolori della Madonna, un po' tutti gli aspetti della devozione mariana, anche a livello teologico. Non è il solito libro, è profondamente radicato nella fede. E fornisce molti esempi di conversioni dovute a Maria. Sì, fornisce molti aneddoti interessanti. In particolare c'è un episodio che mi ha sempre affascinato. Un confessore disse ad un peccatore di recitare tre Ave Maria e con solo tre Ave Maria quella persona si convertì e cambiò vita. Non accade subito, dal giorno alla notte, gli ci vogliono sei mesi prima di recitarle, ma subito dopo averlo fatto gli capitò un episodio che lo allontanò per sempre dal peccato. E questo perché aveva recitato tre semplici Ave Maria. Troverete questo e molti altri esempi nel libro di Sant'Alfonso. Bene, mi raccomando quindi, leggete le glorie di Maria di Sant'Alfonso e continuate a recitare tutti i giorni il Santo Rosario. Grazie per essere stati con noi e arrivederci ad un'altra puntata di Padre Gruner risponde.